Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente, perché era da quando feci sul canale il video presentazione, cosa ne penso, del prototipo Kickstarter, che se vi ricordate l'ho fatto circa più di un anno fa, stavamo sempre in casa vecchia, è arrivata la versione Kickstarter completa di tutti gli stretch goal del gioco di The Thing, della cosa, creazione ed edizione italiana a cura di Pendragon, che io ringrazio immensamente, veramente di cuore, perché dopo che ci avevo fatto appunto il video della presa, non era un cosa ne penso, era una presentazione del prototipo in Kickstarter, mi hanno mandato tutto quanto il Kickstarter con tutti quanti gli stretch goal che vedete qui davanti. Penso che sia un gioco che non ha bisogno di presentazioni, vi ricordo, gioco creato da Andrea Crespi e Giuseppe Cicero e prodotto al 100% italiano della Pendragon ed è stato ovviamente stampato in varie lingue. Non ha bisogno di presentazioni, capolavoro del cinema, secondo me, tranquillamente insieme ad Halloween e, grosso guai a Chinatown, però forse questo è un po' di più, uno dei capolavori indiscussi del cinema e soprattutto di quel genio di John Carpenter e qua davanti, con tutte le cose del Kickstarter, vedete la versione base del gioco, quindi la versione retail del gioco, che sarà questa scatola, con tutte quante le miniature e addirittura l'espansione della base norvegese, dell'avamposto norvegese con le sue miniature, quindi il film prequel. Piccola cosa, prima di passare direttamente all'unboxing, perché vi ricordo che questo video è unicamente un unboxing, il cosa ne penso con le regole e tutto verrà fra qualche giorno. Piccola cosa che vi volevo dire in più, questa scatola qui, che tante volte qualcuno ha sbagliato il film, se vi ricordate, che hanno detto non è stato bello il remake della cosa, non è stato un remake, è stato un prequel. Infatti in questa scatola, con le sue miniature, c'è direttamente tutto quanto il prequel, quello ambientato nell'avamposto norvegese da cui il cane alla fine scappa, se vi ricordate. E altra cosa, altra piccola notizia sull'ambientazione, il film di John Carpenter fu un remake di un film uscito tanti anni prima, che si chiamava, se non erro, la cosa di un altro mondo, proveniente da un altro mondo, una cosa del genere, che a sua volta era ispirato a un romanzo o una novella che si chiamava Who Goes There. Infatti, se vi ricordate, c'è un altro gioco simile a questo che, anni fa, ho già portato sul canale, Who Goes There, dove c'erano gli stessi personaggi, c'erano McCready e tutto, perché questa cosa di John Carpenter, appunto, oltre ad essere un remake, è stato anche ispirato a questo romanzo chiamato, appunto, Who Goes There. Vi faccio vedere un pochino cosa c'è all'interno di tutte quante le scatole, vi ricordo che quella che ordinerete, poi alla fine della Pendragon, sarà soltanto la versione retail, che è questa qui davanti, quest'altra qui sono tutti quanti gli stretch goal che venivano sbloccati direttamente col Kickstarter, ma io non ho problemi nel credere che sicuramente si troveranno anche, a parte, soprattutto le espansioni, che sono bellissime. Vi faccio vedere un pochino cosa c'è dentro, dopo la sigla. Questa è la scatola di base, come vi dicevo, la confezione della versione retail, vedete, prodotto della Pendragon, e la scatola è bellissima, amica, va veramente da morire. Classico, tutto nero, con davanti la cosa, ed è uno spettacolo assurdo. Apriamo. All'interno della confezione troviamo, scusate se lo vedete un po' zoomato, però purtroppo il cavalletto è un po' basso, e anche il telefono è quello che è, abbiamo il regolamento, che è condito, ma l'avevate già visto nella versione anche prototipo, da un'infinità di immagini che ci aiutano e ci facilitano anche la lettura, perché fondamentalmente, come dico sempre, la cosa migliore è quella, esempio, immagine, esempio, immagine, così da dare una chiara lettura del regolamento a chi, insomma, poi andrà a intavolare una partita. E questo qui è il regolamento. Passando sotto abbiamo foglio descrittivo dei moduli extra, ve lo faccio vedere così davanti, con la cosa in una delle sue forme più abbiette, vi ricordate la testa, quando gli esce dal petto una delle scene che tra l'altro al cinema fecero morire dalla paura tantissime persone, ci sono persone che arrivarono quasi a svenire per quella scena lì, perché John Carpenter, a livello di effetti speciali e di horror e di splatter, non badò veramente a spese. Poi abbiamo una cosa che nemmeno avevo visto, amore mio, il poster, guardate il poster, con McCready con lanciafiamme e accanto all'aski, vabbè, non l'avevo visto ragazzi, preparo un quadretto subito, immediatamente. Poi abbiamo tutti quanti i token, quindi da defustellare, vedete qui ci sono tutti quanti i token da usare all'interno della partita e anche i token ovviamente della cosa, che vi ricordo che in questo gioco la cosa avrà le sue varie forme e i suoi vari livelli che sono rappresentati poi dagli standi sagomati o anche per chi ce l'ha appunto dalle miniature. E infatti nel gioco base le miniature sono queste qui, le miniature sono divise in standi, come vedete, nella versione retail, nella versione base, se non avete preso anche le espansioni con le miniature e queste qua sono le varie forme della cosa, come vedete c'è da una forma base alla forma finale quando poi alla fine, con una bella parolaccia, McCready gli lancia il candelotto in bocca. Abbiamo la mappa dell'avamposto del primo film, che ora poi ve la faccio vedere nel prossimo video, ve la faccio vedere per bene, per esteso, con tra l'altro tutte quante le azioni che si possono fare nelle varie stanze segnate e ve la faccio vedere per bene nel prossimo video direttamente nel cosa ne penso. Sacchettini, poi abbiamo tutti quanti segnapunti, le pedine dove mettere gli standi, i cani, metto un attimino a fuoco, vediamo se si vede, abbiamo i cani qua dentro e l'elicottero che vi ricordo essere una delle vie di fuga finali, i barilotti che vanno a rappresentare le risorse e il carburante all'interno dell'avamposto, i dadi, quindi vedete che anche già nella versione retail ragazzi è pieno zeppo di roba, guardate qua dentro quanta roba sto tirando fuori e non finisce più, anche soltanto nella versione retail senza miniature c'è veramente uno sbotto di roba e vi dirò di più una piccola cosa mentre vi faccio vedere un po' quello che c'è all'interno, hanno creato nelle regole perché il gioco è da 4 in su, hanno creato anche una modalità full cooperative dove la cosa è mossa dalle regole di gioco e questa modalità full cooperative si gioca da 1 a 3 quindi anche se siete da soli ragazzi capolavoro di gioco lo potete giocare anche in solo ovviamente non ci sarà tutta la paura che uno dei vostri amici seduti al tavolo sia la cosa ovviamente questa cosa qui non ci sarà però lo potete giocare anche in solo vedete infatti le carte sabotaggio, poi le carte della cosa con il test del sangue e poi abbiamo tutte quante le carte equipaggiamento, che ora vi faccio vedere le carte varie degli equipaggiamenti che si possano andare a creare tipo vabbè la chiave inglese, poi da qualche partanica di benzina, scusate si vede male da qualche altra parte c'era anche il lanciafiamme di McCready e insomma ci sono tutti quanti gli oggetti, ah ovviamente razioni di cibo perché bisogna anche sopravvivere all'inverno all'interno dell'avamposto e di qua invece in quest'altra tabellina anche il fondo della scatola che come vedete c'è l'astronave aliena vista da sopra, il boccaporto di entrata e poi abbiamo tutte quante le carte dei personaggi, in questo caso qui il primo messo in cima è il protagonista del film, grandissimo Kurt Russell abbiamo McCready con le sue abilità e tutte quante le cose e poi Niles, che poi era Nauls ma lo chiamavano Niles Gary, che Gary era il capo della base, era quello che all'inizio spara in faccia a quello dell'avamposto norvegese, Norris e tutti quanti gli altri vi faccio vedere cosa c'è dentro invece le espansioni si passa poi al pacchettino di espansione che è il set di miniature, semplicemente questo era uno stretch goal del kickstarter per questo dico non lo so se verrà messo anche nella versione finale da comprare a parte spero di sì, anche perché all'interno ci sono le miniature degli eroi quindi dei personaggi e come vedete abbiamo le pedine per tenerli su e poi abbiamo i personaggi che sono quelli del film qua giù ad esempio c'è il mitico cioè ognuno sceglierebbe ovviamente lui McCready, da tabellino alla miniatura con lanciafiamme che è uno spettacolo assurdo oppure facendovi vedere qualche altra miniatura c'è ad esempio il capo dell'avamposto Gary, quello nel film con la pistola che vi ho fatto vedere poco anzi quello che sciotta all'inizio sparando in testa al norvegese che prova a metterli in guardia e poi ci sono tutti gli altri personaggi ad esempio Nails che è questo, che è il cuoco e Windows, il tecnico altra set di espansione stretch goal con la cosa ovviamente le miniature più belle che tutti vorremmo a parte McCready non sono quelle dei personaggi ma sono quella della cosa e ragazzi penso non ci sia bisogno di fare presentazioni alle forme più le forme più demoniache guardate là cioè proprio veramente da incubo come sono fatte bene no vabbè spettacolo cioè queste da dipingere penso mia moglie si sbizzarrirà quando arriverà il momento e poi la parte finale quando cerca di assumere tutte quante le forme che ha inglobato come vedete la testa del cane e i vari volti delle persone che ha inglobato anche sulla schiena guardate bello e quando appare McCready alla fine che fa vai a prenderla nel non si può dire e gli tira il candelotto in bocca scena finale bellissima e poi c'era anche il set alternativo ma secondo me ci vuole il set di personaggi miniature set 2 che sono praticamente altri 4 personaggi del film non del prequel che sono addirittura se vi ricordate c'era Copper quindi con le loro carte all'interno e le miniature loro che sono queste qua spero al solito ragazzi si vedrà qualcosa perché purtroppo lo zoom di questo telefono se ne sta andando quindi comunque sono gli altri 4 personaggi sicuramente secondari però che vanno a concludere completamente il team del primo film abbiamo poi la scatola dell'avamposto norvegese che è molto più piccola rispetto alla scatola normale tipo un terzo ma anche perché questa è veramente lo potete giocare anche a parte è però un'espansione ovviamente non ci sono i dadi ovviamente non ci sono tutte le cose che servono per giocare perché ce l'avete già nel set base sarebbe inutile andarle a sdoppiare un'altra volta a fare il doppio di contenuti però all'interno avete la mappa dell'avamposto norvegese con tutte quante tutti quanti gli standi le carte ovviamente e tutte le regole per giocare questa espansione che è il gioco normale solo praticamente con altri eventi altre cose e un'altra mappa completamente differente all'altra e per concludere sempre nello stretch goal c'erano le miniature le miniature del norvegian outpost come vedete qui che qui c'è la miniatura della cosa più bella tutte quante le carte dei personaggi e qui ci sono i personaggi dove ad esempio se non erro questo è il tizio che dall'elicottero sparava si infatti c'è il fucile dal cecchino che sparava al cane norvegese che gli diceva non vi fidate non è un cane normale e poi Gary li spara in faccia questa ragazza è la protagonista questa ragazza qui del film del prequel della cosa che io dirò forse è una cosa che non tutti apprezzeranno ma io che sono un purista del film per me anche il prequel è un capolavoro ora forse non allo stesso modo ma se al primo gli do voto 10 al secondo gli do voto 8 perché torna tutto veramente collega tutta quanta la storia e anzi ha avuto un rispetto secondo me disumano del film e poi la versione più bella da cui tutto è iniziato se vi ricordate quello a due teste cioè la cosa nella scena di fusione guardate là che si fonde e attacca tutte e due le teste e questo praticamente è oh vediamo sfocano un po' questa è la cosa dell'avamposto norvecese ragazzi questi erano tutti quanti contenuti di questo kickstarter strapieno di roba e a giorni vi farò direttamente il video del cosa ne penso io penso che non ci sia bisogno di aggiungere nient'altro come avete visto capolavoro ciao ragazzi alla prossima ciao